Fulvio Pierangeli, cosa vuol dire cucinare? Innamorarsi di un prodotto, carezzarlo, andare in cucina e avere qualcuno a cui far assaggiare poi le tue cose, il tuo piccolo sogno, il tuo piccolo gioco. Questo è cucinare. Prima di tutto andare al mercato, comprare le cose e poi appassionarsi. Sceglierle, non ordinare online. Sono loro che ti scelgono. Sono loro che ti scelgono e su questo io chiuderei.